A Lucca il Digital Photo Festival sceglie la fotografia digitale per la possibilità che questo strumento offre di modificare l'immagine dopo lo scatto. La fotografia digitale e quella analogica sono molto diverse nelle modalità, nei risultati e nelle applicazioni. Per me fotografia è testimonianza di una cosa che ho visto e è successa sotto i miei occhi. Come cambia la mentalità del fotografo rispetto a questo nuovo modo di lavorare? Secondo me cambia molto, cambia. A Milano c'è una pubblicità enorme che dice non pensare, scatta. E questa è la mentalità del fotografo di digitale. Io ai miei ragazzi quando faccio qualche volta dei corsi o delle lezioni all'università, dico prima pensa, poi casomai scatti. Non è detto che devi scattare sempre. Otto mostre, dibattiti e workshop hanno riaperto la disputa tra analogica e digitale. Steve McCurry andrà in giro per le strade di Lucca per mettere la sua esperienza a disposizione di chi lo vuole seguire. I think you're too tight, too tight, too close, I mean, back a bit more, maybe, that's too close. I honestly don't approach it any differently with digital than with film. With digital you can continue to change the ISO as it gets darker and darker and darker. So you can recalibrate your lens. But I honestly don't agree with the idea that you look at the world in a different way or the lens. I don't see it any differently with the digital. Maybe I've just become accustomed to it or something.